12 punti, quella soglia sottilissima da tenere sempre d'occhio e se possibile ridurre almeno di una lunghezza. E la distanza congela, quella che nella giornata in cui la pallavolo Pineto fa bottino pieno a Roma contro una formazione ormai rassegnata alla Serie B, interessa maggiormente il giallo-blu. E perché questa rimanga sempre contenuta a gare, come quella di ieri non possono che dare una mano? Sulla carta non c'era partita, lo si sapeva. Troppo ampio il divario tra due squadre separate da una montagna di punti in graduatoria. E tuttavia per fare proprio il primo set Pineto ha dovuto sudare le proverbiali sette camice, riassunte nell'interminabile 36-38 che consegna il vantaggio ai ragazzi di Conte, che una volta superato il primo ostacolo per Antonio Masi è il più duro, poi vanno via veloci come il vento. In sostanza il secondo e il terzo set durano insieme più o meno quanto tutto il primo, i soliti Bosco 17 punti e Stefano 24 non lasciano scampo al Club Italia di Schiavonne. A segno vanno un po' tutti, Sborgia e Moretti 5, Cudello gli Isci 4, con Calderana ancora risparmiato dopo i fastidi di settimana. Le buone notizie però arrivano anche dalle Marche, dove la quintultima Gela era di scena contro Loreto, che esce vincente per 3-2 dopo aver sfiorato la sconfitta interna. Col punto dei siciliani e i tre dei pinetesi, la distanza tra le due formazioni resta ancora la fatidica soglia del più 12 per Gela. Finisse oggi il campionato niente play-out e Pineto in B, la fortuna è che di partite ne mancano 5. Tra le vie del nord si conoscerà il destino della zona bassa, Pineto giocherà tre volte in casa contro Genova, Mantua e Milano. Gela solo due, ma è ancora presto per fare calcoli. Ora da guardare ci sono solo quei 12 punti da cui passa un'intera stagione, adesso serve recuperare una sola lunghezza.